Avere un competitor che perde tre partite consecutive in casa, l'ultima stasera con Ferrara, ma paradossalmente, malgrado il distacco di quattro punti, ci dà ancora delle speranze e per come caratterialmente sono fatto io, prima di arrendermi ci metto un bel po', mi debbono prima tirare giù al suolo, al di là della battuta. Io credo che noi abbiamo fatto una prestazione stasera sicuramente molto migliore delle tre precedenti con la mia guida tecnica, nel senso che abbiamo pareggiato per larghi tratti del match la intensità che avevamo mostrato 15 giorni fa in casa con Tieste, abbiamo giocato una partita molto migliore da un punto di vista dell'organizzazione offensiva rispetto a quella partita, le altre due, quella a Bologna e quella in casa preganatica, oggettivamente reputo molto molto negativo. Si tratta in questi casi di aggrapparsi a dei segnali anche piccoli, anche minuti di vita. Il finale di campionato è risaputo, possono determinare delle sorprese, noi dobbiamo essere pronti a cogliere eventualmente le possibilità. È chiaro che se hai da recuperare quattro punti devi augurarti anche che il tuo avversario perda, oltre che vincere te, però i segnali stasera sono positivi, anche se bisogna assolutamente, oltre che dare il giusto merito a Lignano, rimproverarci una prestazione difensiva a tratti non intensa come lo è stata in altri frangenti. Sicuramente sia a metà del terzo quarto, sia a metà dell'ultimo, abbiamo avuto dei passaggi a vuoto anche da un punto di vista offensivo e questo credo abbia fatto, ripeto, oltre alle cose, alle tante cose buone fatte da Lignano, abbia fatto la differenza purtroppo in negativo per noi. La mia idea sui due match, perché io accomuno il match al Paladozza a quello di domenica scorsa, probabilmente la scossa di energia che la squadra aveva ricevuto dapprima lavorando intensamente in preparazione del match di Trieste e poi dal successo, per carità del cielo, anche fortunato, non mi piace di fare non riferimento a degli aspetti che nel basket e nella vita sono comunque incidenti. Quindi aver fatto tre su tre negli ultimi tre possessi in quella partita lì è stata bravura, ma è stata anche una capacità di trovare la soluzione fortunata. Ecco, probabilmente aver dopo quella partita lì, aver avuto una settimana con due altre partite che ci hanno negato di fare quei passi in avanti nell'esecuzione dei giochi, che stasera seppur in forma timida abbiamo mostrato, idem da un punto di vista difensivo a tratti siamo stati buoni, in altri tratti assolutamente inguardabili, però era un motore che sicuramente stava provando a rimettersi in moto. Siamo stati non fortunati sicuramente nel finale di partita con Trieste, non fortunati di non poter fare una settimana normale di allenamento. stasera con tutti i limiti che abbiamo, almeno abbiamo portato avanti un piano partita e i giochi in una forma che è quella necessaria, prendere un vantaggio e mantenerlo con le spaziature e con delle linee di passaggio adeguate. Per noi in questo momento sono dei buoni passi in avanti, c'è bisogno che facciamo qualcosina in più perché la situazione è oggettivamente molto molto difficile, però ribadisco per l'ennesima volta il concetto. Per come sono fatto io mi arrenderò, se ci sarà da arrendersi solo a giochi fatti, non certo in questa situazione in cui Recanati continua a perdere match casalingo. Tensione è impossibile che non ce ne sia perché è uno sport agonistico il nostro lavoro ed era una partita di quelle dove non ci sono altri discorsi se non finire avendo vinto, per cui la tensione era molta. Avevo detto alla squadra che non è che dovevano pensare di vincere la partita in 5 minuti o che bastava andare avanti di poco perché le cose finissero. Avevo detto loro che questo tipo di partita si vince negli ultimi 5 minuti. Avevo detto pensiamo, non preoccupiamoci di andare sotto in qualche punto, ma continuiamo a giocare e pensiamo al fatto che dobbiamo portare a casa la partita negli ultimi 5 minuti e così abbiamo fatto. Innanzitutto sono contento della prova di Laudoni, che mi sembra un giocatore in costante crescita e per noi è importante. Sono molto contento della prova dei nostri due giocatori americani perché logicamente dal momento in cui Frassini è tenuto a mancare noi abbiamo responsabilizzato di più loro, chiedendogli pentoli e coperchi e oggi hanno fatto sia a cifre che a impatto visivo una partita importante e in due alla fine fanno 45 punti e 25 rimbalzi e per noi non è poco. Per il resto noi dobbiamo recuperare al meglio Palermo perché continua a giocare infiltrato e senza allenamenti. Martini che ha bisogno di avere un pochino di continuità in allenamento e riuscire a dare magari anche un pochino di riposo a Maiocco perché è tre mesi che non si ferma mai e lo stiamo spremendo fisicamente e si vede. Per il resto mi tengo molto stretta la vittoria che era la base, la posizione in classifica che dice che in questo momento saremo salvi e l'onda lunga di una vittoria che deve accompagnarci in queste due settimane fino alla partita di Iesi, fermo restando che il nostro campionato non finisce a Iesi. Noi abbiamo sei partite ancora lunghissime, può succedere veramente di tutto. Logico che al momento essere pari a loro con il vantaggio dello sconto diretto ci fa guardare le cose in maniera diversa che se fossimo andati a loro sotto di due o quattro punti in classifica. Io penso, quello che avevo detto loro, ogni tanto abbiamo preso dei tiri affrettati e invece con loro ho detto guardate che se noi riusciamo a fare dei ribaltamenti, riusciamo a fare dei ribaltamenti, riusciamo a fare più passaggi, noi portiamo a casa dei tiri facili come spesso è accaduto. L'altro dato che mi conforta è avere una volta tanto vinto la battaglia a rimbalzo e non aver concesso loro più di tanti rimbalzi offensivi che per noi è un problema che abbiamo dall'inizio, l'avevamo anche quando vincevamo. Per cui, bene, sono contento di questo. Beh, io non è una punizione senso, Stefano ha giocato un'ottima partita, ve l'ho detto, sono molto contento. Nel finale mi sembrava che Martini ci potesse dare qualcosa di più a livello offensivo e soprattutto magari ero convinto che su una rotazione potesse fare un canestro da tre punti o rubare un canestro in uno contro uno, per cui è stata una scelta. Ma così, la mia sensazione è verso il campo. È un'indicazione chiara che sto chiedendo a lui da tempo, ma non solo per noi, anche per un giocatore giovane, ma per la sua carriera. Lui deve diventare un giocatore con la doppia dimensione, la dimensione perimetrale ce l'ha. Il suo problema è la gestione dei contatti, quello che succede in avvicinamento e noi stiamo lavorando perché lui gioca contro i contatti. In più, adesso viene da un periodo che si allena e si vede. Infatti ha fatto 25 e 25, 10 rimbalzi e 10 rimbalzi. C'è stato un periodo che lo mettavamo in campo solo e teniamo conto che neanche adesso, neanche adesso in questo momento è al 100% perché in teoria sarebbe da fermare perché gioca con un edema osseo. Però abbiamo fatto tutti i contrari del caso, gli è stato detto che la cosa non può peggiorare giocando. Lui a quel punto ha giocato seguendo le indicazioni dello staff medico e si è allenato. E il fatto che, ripeto, due partite di fila dove si allena per tutta la settimana penso che i risultati sono normali. Quello che aveva detto prima Palermo, lui stesso dice se non ci si allena questo gioco è difficile portare a casa qualcosa.